Abbiamo voluto presentare una interpellanza in questa giornata dedicata ovviamente alla lotta all'obesità perché negli anni addietro per ben quattro anni in collaborazione con il CONI, con l'ufficio scolastico regionale, con i fondi della prevenzione abbiamo messo in campo un progetto chiamato Scuoli in Movimento per l'attività motori e l'educazione alimentare in tutte le prime e le seconde elementari della nostra regione. arrivando a ben 22.500 bambini, 95% dei plessi, mettendo al lavoro tanti giovanissimi laureati di scienze motorie, centinaia per la verità, con una collaborazione tra scuole, mondo dello sport e regione sanità davvero molto proficua. Chiediamo che il progetto venga immediatamente ripristinato.